segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ultimo passaggio i rossa sapevano che non era il covo di rina perché ripeto han detto dice de donno che hanno tenuto sotto controllo quel posto e l'hanno filmato per una serie di settimane de donno dice ci siamo sbagliati non è così era un'altra storia abbiamo visto che quell'altra storia è sbagliata caro de donno perché non venite qui una volta a rispondere anche in modo serio visto che avete fatto parte di un sistema italiano importante perché non io non dimentico non dimentico uomini e ragazzi come filippo salvi uomo dei ross morto per mettere delle cimici dentro la casa di guttadauro precipitato da una parete quelli sono gli uomini veri non cerchiamo di mischiare tutto ci sono persone che sono nel silenzio hanno sacrificato la loro vita per rispetto a queste persone noi andiamo avanti perché noi crediamo nei magistrati onesti nei poliziotti nei carabinieri onesti noi crediamo che si sappia bene nei palazzi però quando c'è qualcosa che non torna beh insomma il dovere di farlo sentite ligotti cosa dice